Premere il pulsante Preferiti per impostare le funzioni della pressione lunga e breve. Selezionare le funzioni desiderate dalla libreria di contenuti. Premere i pulsanti Più e meno per regolare il volume. Oppure, usare il dito per scorrere in senso orario e anti-orario. Quando si ascolta una sorgente multimediale, premere i pulsanti Sinistro e Destro per selezionare il preferito successivo o precedente per radio, multimedia, video o canali TV. Premere e tenere premuto per cercare verso l'alto o verso il basso fino alla stazione radio successiva o precedente. Premere il pulsante Telefono per attivare il sistema telefonico. Premere di nuovo il pulsante Telefono per chiamare il numero più recente dall'inizio dell'elenco. Premere il più o il meno per regolare il volume della chiamata. Premere il pulsante Termina chiamata per terminare la chiamata. Premere il pulsante Menu per cambiare le funzioni e le impostazioni del veicolo. Scorrere il menu usando le frecce. Premere la freccia destra o premere OK per visualizzare un sottoelenco. Ora sono visibili le opzioni della funzione. Scorrerle usando le frecce su e giù, oppure usare il dito per scorrere in senso orario e anti-orario e premere OK per selezionare. Per tornare al menu precedente, premere la freccia sinistra o premere e tenere premuto per chiudere e uscire dai menu. Alcune di queste funzioni non sono disponibili quando il motore è acceso. Alcune di queste funzioni non sono disponibili. Grazie. 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 Grazie.